come dice lo zampi allora se basta così si fa una scolata al pente anche il tuo file che sta lì così fermo di lui mi posso fidare dei nostri no perché i nostri mi prende qua il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.